Mi chiamo Valeria della Valle e per tutta la vita ho raccolto, definito, catalogato parole, parole da mettere nei dizionari della lingua italiana. Poi ho sentito il desiderio di usare le parole per fare qualcosa di diverso, per raccontare una storia, anzi una storia fatta di dieci storie. Queste storie raccontano le vite di una comunità, una comunità fatta da artisti e artiste vissuti, vissute in una strada appartata a Roma. Una strada bellissima della quale ho cercato di ricostruire l'atmosfera ormai perduta e quell'atmosfera era fatta anche di una cultura, di un modo di vivere, di ideali che accomunavano gli appartenenti a quella comunità. Ecco come ho cercato di descrivere, leggo poche righe, del libro. Le parole sono queste. Una strada stretta, lunga, fatta di cortili e di scale all'ombra dei pini di Villa Medici. Una strada ferma e silenziosa, immobile nei quadri e nei film di chi l'ha amata. Ecco, ho cercato di descrivere quella strada nel libro, appunto, La strada sognata.